Expo Milano 2015 si apre ufficialmente al mondo. Un viaggio lungo sei mesi alla scoperta delle culture, dei sapori e delle tradizioni di 145 paesi, ciascuno con una propria interpretazione del tema dell'esposizione, nutrire il pianeta, energie per la vita. L'alimentazione è il centro del confronto, ma anche il rapporto con il cibo, l'accesso alle risorse alimentari, la lotta agli squilibri e agli sprechi, l'agricoltura, il clima e la sostenibilità ambientale. Tutte sfide cruciali per l'umanità intera. 54 i padiglioni da scoprire, ognuno con architetture spettacolari, allestimenti e percorsi sensoriali che coinvolgono il visitatore. E poi 9 cluster tematici, tante attrazioni, migliaia di eventi in programma fino al 31 ottobre 2015. E tutti gli studenti dell'Università di Pavia possono visitare Expo con il biglietto speciale da 10 euro. Per richiederlo basta collegarsi all'area riservata del portale d'Ateneo entro il 15 maggio. Il pagamento, per ritenersi valido, dovrà avvenire entro il 19 maggio 2015. Ateneo il 15-1st downeghi, di 10 euro. Grazie a tutti.